I pendolari del Valdarno non devono essere penalizzati da Regione Ferrovia e servono nuovi treni, cambi di orario, riduzione del sovraffollamento e nuovi binari alla stazione di Firenze-Campo di Marte per limitare gli inchini sulla linea direttissima. Lo afferma il portavoce del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, Maurizio Dare, che ha presentato cinque precise richieste all'assessore regionale Trasporti Vincenzo Ceccarelli durante l'incontro Regione Comitati Pendolari Toscani. Ecco le richieste. Innanzitutto due nuovi treni Vivalto, confermate nelle stazioni del Valdarno, che sostituiscano due coppie di treni tra i più usati e affollati quotidianamente da circa 600-800 viaggiatori, in particolare il treno Firenze-Roma 2315 e il Firenze-Foligno 3165. La seconda richiesta è ripristinare gli orari precedenti a quello invernale per due treni, il Firenze-Roma con partenza da Santa Maria Novella alle 19.02 e il treno Prato-Montevarchi 11.801. La terza richiesta è la riduzione del sovraffollamento di prima mattina del Valdarno verso Firenze su Direttissima, due le ipotesi, una nuova carrozza al Vivalto 6604, l'ottava o una nuova fermata unica nel Valdarno a Figline del diretto 3168 chiusi a Rezzo-Firenze. Nuovi treni infine vengono chiesti con velocità di 200 km orari nel contratto di servizio con Trenitalia e due nuovi binari nella stazione Firenze-Campo di Marte per i treni alta velocità regionali per limitare gli inchini sulla Direttissima.